allora ragazzi buon pomeriggio ci risiamo fortunatamente ringraziando Wymus Italia ci hanno rimandato l'action cam che è andata persa nel lago di Ventina con due pescate dentro registrate e adesso stiamo pescando principalmente Finesse con una delle ultime novità di casa Berkeley che adesso vi faccio vedere che è questo è questo worm da tre pollici e mezzo ragazzi innescato Texas con un piombino pescando a split su un'acqua veramente trasparente quindi fluorocarbon obbligatorio e cercando il pesce quasi in profondità ho appena visto che sott'acqua vicino ho un jig con un trailer agganciato di qualcuno che adesso recupererò con il mio super mega quadrino disumanamente grande e Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ho preso un pesce, ragazzi. È anche discreto. Stranamente. È anche un bel pesciotto, ragazzi. Allora... Eccolo! Un po' più di un portagliavi. Eccolo, ragazzi. Allora... Eccolo, ragazzi. Bel pesce. Vi faccio vedere il rilascio. Eccolo. Vai! Via! Primo pesce preso, ragazzi. Adesso cerchiamo di spicciare l'amo dal guadino. Per paura di perderlo, non ho lasciato la canna per accendere la copro e un po' me ne rimpiango, perché probabilmente ho preso il pesce forse più grosso di tutta la stagione di quest'anno. Eccolo. 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 Tanta roba. Vi dico pure quanto misura. Sono 30 e mezzo. Eccolo. Viene pescata, ragazzi, oggi. Ormai è diventato un appuntamento fisso. Stavamo pensando con lui, infatti, di fare una serie su YouTube. Trovare un titolo e fare questa serie di noi, di gruppo. Ecco Bruno. Prima non ci siete riusciti a vederlo. Ecco, ora lo faccio vedere. Eccolo Bruno. Abbiamo laggiù, laggiù c'è sta Luca, ragazzi. Eccolo. Caldo tanto, eh. Mamma mia. Da morì. L'uomo è giusta, ragazzi. Con ilто anche la pimentazione di notizia che siano quindi c'è. L'uomo è giusto? N�, vi ho visto a quello di mani, l'uomo è giusto. Sì. L'uomo è giusto. Eccolo. L'uomo è giusto. ecco 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 ecco